Uno dei concetti portanti del romanticismo è certamente quello che viene espresso da un termine tedesco che è la sensust, o struggimento dell'infinito. I romantici ritenevano centrale lo sforzo di raggiungere l'infinito, appunto, detto assoluto, molto spesso, ossia una sorta di ricongiungimento con la totalità della realtà, andando oltre i limiti dell'umano. Questa tensione, però, era destinata sempre a rimanere in parte insoddisfatta. Da qui un sentimento particolare, caratterizzato dall'inquietudine che possiamo definire ricalcolando il significato della parola tedesca come una sorta di desiderio del desiderare. I romantici trovavano piacere già solo nel percepire questo desiderio infinito, prescindere dall'effettiva sua soddisfazione. Grazie anche a tutti.